In attesa del decreto prefettizio con il quale sarà ufficialmente sciolto il consiglio comunale di Taranto, Rinaldo Melucci prosegue la sua attività di primo cittadino. Due appuntamenti sulla territorio, il primo al quartiere Paolo VI dove c'è stata la piantumazione di nuovi alberi e poi un sopralluogo tra via Mascherpa e via Rondinelli dove prendono il via i lavori di riqualificazione dell'area camper, consegnato infatti il cantiere alla ditta che si è giudicata l'appalto. Aumenta anche l'interesse per il settore camperistico che peraltro nell'epoca Covid o post Covid dà maggiori garanzie alle famiglie di spostarsi in sicurezza e per questo la città si sta attrezzando anche con nuovi parcheggi perché quest'area che riqualifichiamo dopo tempo in memoria è un'area che accoglierà anche stalli tradizionali ma soprattutto accoglierà la prima dozzina abbondante di stalli per i camper, di attrezzature utili come dire alla sosta di chi effettua questo tipo di turismo che se vogliamo un turismo anche compatibile col nuovo modello di sviluppo che la città si sta dando in chiave alternativa e quindi in chiave anche sostenibile. Avremo in quest'area stazioni di car sharing, di bike sharing e i monopattini che possono rendere più sostenibile appunto il trasporto da questa zona verso la città. Un impegno che l'amministrazione aveva preso qualche tempo fa con le associazioni dei camperisti che si concretizza oggi. tra l'altro con l'avvio di questo cantiere Taranto ha la possibilità di candidarsi nel circuito dei comuni amici del turismo itinerante. Sarà completamente video sorvegliata e verranno implementati tutti quelli che sono gli strumenti tecnologici a disposizione della sosta.